Dicono che nello sport le cose cambiano a seconda della prospettiva dalla quale le si guarda. Potrebbe non pensarla così Francesco Lorusso, il laterale Altamurano classe 1991 in forza futsalbitonto 2019. Che sia dalla sua zona di competenza in campo, dalla panchina o dalla tribuna, per lui la visione di questo sport è una soltanto, giocare, lottare e soffrire per un unico obiettivo, la vittoria. Ed è proprio questo suo spirito battagliero l'aspetto principale che fa del laterale Murgiano uno dei punti di riferimento del roster nero-verde guidato da mister Pietro Di Bari. Ma Francesco Lorusso non è solo spirito battagliero e nulla più. È testa bassa e pedalare, dribbling fulminio, sinistro implacabile sentenza di condanna da qualsivoglia posizione, braccio al cielo in segno di esultanza ed una dedica speciale alla compagna presente in tribuna. Gesta queste che hanno fatto innamorare l'abitonto sportiva solo dell'atleta Murgiano, perché l'uomo rispetto all'atleta è forse anche qualcosa in più. Mai una polemica, mai una parola fuori posto, massimo impegno durante gli allenamenti settimanali ed una dedizione a questo sport e dalla causa nero-verde mostrata nel suo momento stagionale più difficile, quando l'infortuna al piede l'ha costretto a tenersi lontano dai campi per un lungo periodo. Zero drammi e isterismi, solo lavoro, sudore e sacrificio. E poi eccolo il ritorno in grande stile con una splendida rettilità qualitra in occasione delle Final Eight. Un gol d'applausi, anche non ha dato seguito poi l'Eurogold al centrocampo contro il Monte Sant'Angelo e la rete di sabato scorso in quel di Polignano. Il miglior modo di dirsi bentornato dunque per un ragazzo che di questo sport ha una sola visione, ossia lottare, sudare e soffrire, a differenza invece di chi ritiene che le cose cambino a seconda della prospettiva dalla quale si guarda.